Ciao, io sono il cane Yuko. Vi state domandando perché sono ricoperto di fango? Beh, adesso ve lo spiego. Tutto è iniziato quando la mia padroncina mi ha portata in questo fantastico posto, ma poi improvvisamente è sparita dentro l'acqua. Ehi, ma che succede? Così mi sono preoccupata tantissimo e ho iniziato subito a chiamarla. Ma anche se lei sembrava tranquilla, io non l'ho fatto, così ho deciso di tuffarmi per salvarla. Ehi, ma quanto è profonda quest'acqua? Ma ho cercato di non pensarci e di farmi coraggio, così mi sono avvicinata a lei e le ho indicato quale fosse la via per tornare sana e salva. Ma quando sono arrivato e mi sono asciugato, mi sono accorto che lei era rimasta indietro. Così mi sono lanciato nuovamente sulla riva e ho cercato in tutti i modi di prenderle la mano. Ehi, afferra la mia zampa! Ma quando lei finalmente era salva, mi sono girato e ho visto che anche il mio mano è caduto dentro l'acqua. E vabbè, adesso non è che posso salvarli tutti io, insomma. Così ho lasciato perdere. Ma per fortuna è finita bene, specialmente perché i miei mani hanno tirato fuori il cibo. Beh, direi che un piccolo pezzettino me lo merito, ti ho salvato la vita in fondo. Adesso va decisamente meglio, però umana promettimelo, non ti allontanare mai più senza di me.